E' appena terminata una mattinata pienissima, intensa, ricchissima, uno scambio molto potente per cui grazie. Grazie a tutte le ragazze e ai ragazzi che hanno scelto di partecipare dedicando due anni del loro percorso scolastico a un progetto e a un tema così fondamentale, vitale, essenziale direi, come la lotta alla violenza contro le donne, quindi eliminazione. Questa è la giornata, il 25 novembre, per l'eliminazione della violenza sulle donne. Eliminazione è una parola assoluta, è una parola enorme, per cui lavorare verso questa direzione tutti insieme, nessuno si senta escluso e avere davanti tante ragazze e tanti ragazzi, professori, istituzioni che hanno, che ci hanno creduto, che l'hanno vissuto, sentito e che hanno restituito comunque le loro riflessioni. Per me devo dire che è profondamente fonte di ricchezza, quindi esco da tutto questo con la pienezza, perché alcune parole, alcune cose rischiano un po' di svuotarsi, invece tutto questo restituisce la corposità della possibilità di un po' cambiarle, cominciare a cambiarle queste cose, non arrendersi alla logica dell'ormai, no? Siamo destinati a questo, no? Mi è sembrato che tutto questo possa portare al fatto di piantare dei semi, partendo dall'educazione, famiglia, scuola, tutti noi, ognuno di noi, grandi e piccoli, uomini e donne insieme per eliminare ogni forma di violenza, questo è davvero preziosissimo, per cui io sono molto grata di questa giornata a tutte le persone e a chi ha messo in piedi questo progetto. Grazie.